Musica Ultime decisioni in campionato, stasera da Lazio Torino potrebbe derivare un verdetto importante per la salvezza. Se infatti il Torino non perderà contro la squadra di Simone Inzaghi, il benevento di Pippo Inzaghi andrà in Serie B. Hai Granata, infatti basta un punto per salvarsi. Bianco Celesti senza Correa e Acerbi, Granata con Izzo e Singo. Sempre in campionato, ieri tra Verona e Bologna è finita 2-2, giallo-blu decimi. Per la Coppa Italia domani a Reggio Emilia, finale Atalanta-Juventus. Il bianconero Alexandro sarà squalificato. Si parla di Zidane per la panchina. Potranno entrare 4.300 tifosi. Sarà una prima prova per la riammissione del pubblico negli stadi. Il CT Roberto Mancini ha fatto intanto le prime convocazioni per gli europei. Il raduno a Santa Margherita di Pula in Zardegna il 24 maggio. Una sola novità a Raspadori del Sassuolo, mentre ci sarà Verratti che sembrava incerto. Gli azzurri faranno due amichevoli prima del debutto a Roma con la Turchia. Giocheranno a Cagliari il 28 maggio contro San Marino e a Bologna il 4 giugno contro la Repubblica cieca. Mancini resterà fino al 2026.